Ciao raga Geres Giro caldo Del Q2 Giro caldo 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 Che coglionazzo! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sì, sì, grande! Che culo! Ti vedete, all'ultimo settore lo facevo bene, almeno mi prendo il podio, cazzo! Va bene così! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!